Ragazzi, ragazze, buongiorno! Allora, sto lavorando per far sì che io mi arrabbi di meno su Rainbow Six e vi spiego. I grilletti della PlayStation, che tutti quanti noi conosciamo, non mi fanno impazzire assolutamente, perché per arrivare fino a giù ci passa un sacco di tempo. Quindi, che cosa è successo? Vi ricordate che io tempo fa collaborai con Scaf? E questo non è un video promozionale Scaf, purtroppo, perché non collaboriamo più, vedete? Ve lo ricordate il mio pad? Ok, questi grilletti qua hanno questa rotella, qua dietro, adesso non so se la riesco a fare... Questa qua, questo pezzettino qua, che se voi lo girate, la corsa è minore. Guardate, questo arriva giù, guardate questo dove si ferma, lo vedete? Guardate, questo va fino giù, questo arriva fino a metà, guardate, vedete? Quindi il tempo di risposta del mio sparo è notevolmente migliorato. Sembra una cavolata, ma fidatevi che conta tantissimo. Quindi in questo momento l'ho messo in carica. Volendo, ho anche lo Scaf di Power, che adesso gli ho tolto gli analogici e li ho messi su quelli là. Voi direte perché? Perché sono leggermente più bassi. Io, gli stick analogici troppo alti, non mi piacciono assolutamente. Ad esempio, vi faccio vedere. Questo è lo Scaf, quello vecchio. Vedete questo che stavo utilizzando? Vedete, sono abbastanza corti. Ok? Non mi piace lo stick alto. In realtà, se non erro, gli stick che ho adesso sugli Scaf sono ancora più bassi. E quindi niente, vi volevo raccontare questa cosa qua perché ci sto lavorando. In più, appena comprerò dei cavi LAN, rimetterò anche la PlayStation con il cavo LAN, con la nuova connessione. Quindi, stiamo facendo un botto di cose, perché questa qua è sulla connessione vecchia, che comunque va benissimo. Ma, dobbiamo fare un po' tutte queste cose qua. Allora, belli miei, alcuna matata ben ritrovati dal vostro Ciccameru 89. Siamo tornati qua, su Rainbow Six Age. Voglio registrare un altro videozzo, andiamo in classificata. Quindi, mi prendo bene, però per prendermi bene, perché, regà, veramente sembrano delle piccolezze. Ma, il tempo che io tiro giù tutto il grilletto, magari uno che è stato più veloce di me, o che ha uno Scaf, o che ha un pad che si può regolare, regà, ti scoppia. Ti scoppia. Poi, bisogna rilavorare sulla mira, sul movement, sul posizionamento, su tutto quello che vi pare. Ma, intanto, cominciamo a lavorare sulle cose con cui possiamo lavorare. Almeno, ci si prova. Ehm, giubbotto antipogliettile sulle palle, e let's go. Allora, ragazzi, ci sto provando, eh. Siamo a 5 secondi. Ci sto provando. Qui hanno bloccato tutto, questo facciamo così. E, questo facciamo così, che secondo me ci può stare, che dite? Secondo me sì. Io, di solito, mi metto sempre qua, ma sbaglio sempre. Tra l'altro, ho provato a sistemarla un pochettino l'arma, ma non è che l'abbia sistemata così bene. Regà, secondo me, io mi dovrei guardare qualche streaming di Rainbow Six Age per vedere dove piazzarmi. Perché, secondo me, io mi piazzo proprio male. C'è sto... C'ho sta cosa. Poi noi abbiamo preso tutti i difensori che piazzano trappole. Può essere perché siamo un team da nabbi, sapete? Potrebbe essere... Potrebbe essere per quello. Che dite? Mi muovo un po', anche se... È totalmente sbagliata. Bro, ma se io sto cucciato e tu vieni qui e fai così, mi spieghi che cazzo gioco a fa io? Ok, sopra, quindi. Quindi, sopra. Se non ero, stanno qua dentro. Perché dovrebbero star là dentro, ragazzi. Oddio, regà, eh, ci sta. Allora, l'idea c'era. L'idea c'era, infatti... Però anche è vero che lui c'ha culo, regà, eh. Cioè, anche è vero che veramente... Cioè... Oh, regà. Eh, minchia, no? Cioè, anche è vero che c'hanno parecchia fortuna, secondo me, eh. Oh! Magari lo dovevo fare prima. Ma secondo me c'hanno fortuna. Un operatore alleato rimasto. Ma questo... Ma poi me lamento io che vado in giro. Questo praticamente si è fatto l'intera mappa, regà. Cioè, questo si è fatto l'intera mappa. Ma questo dov'ha? Pettetti. Comunque, regà, no. Voglio veramente imparare a giocare come si deve a sto gioco, almeno come una volta. Questo, regà, è scoppiato in due secondi, ragazzi. Eh, no, vabbè, vabbè. Si sa, si sa, dai, si sa. Missione fallita. Allora, io secondo me ve l'ho detto. Ho un team di nabbi perché? Perché abbiamo preso tutti quanti giocatori che piazzano roba difensiva. Vedrete. Ok, dieci secondi. Qua stanno chiudendo tutto. Io davvero non so... Non so quello che fare. Facciamo così, che secondo me ci può stare. Eh... Direi, direi, direi... Anche questa qua. Che secondo me... Tanto male non è. Io vi giuro qua non so dove mettermi, ragazzi. Io non so assolutamente dove mettermi. Non ne ho idea. Imparirò, imparerò, eh. Perché imparerò con calma, ma imparerò. Che vedevo di? Che vedevo di, ragazzi? Allora, cerchiamo di capire... Dove è? Quello ho pingato. Ok, sotto di me. Merda, sotto di me. Ok. Ci sta. Ci può stare, no? Questo che pinga di merda, eh? Che pinga di merda, eh? Ragazzi, sta qua sotto. Io più che... Ah, vada, quello quanto ci sta mettendo per... Per rompere la videocamera, raga. Pazzesco. Quindi, ipoteticamente... Belle, le trappole sono fortissime. Bruva occhio. Occhio. Fatteli cazzarci, due. Qua stiamo in due. Guarda, se mi arriva a me una cecchinata, per colpa tua. Raga, a sto punto preferisco. Madonna, gli stanno... Madonna, c'è uno che sta facendo una strage di là. Ma com'è? Ok, quello si è spostato, quindi copro io qua. Vabbè che forse non c'è più neanche nessuno qua, eh. Però non mi posso, ma è giusto? Uff. Bello. Qualcuno ha preso una bella pizza. Mi ha dato... Mi ha dato qualche punto. Ultimo attaccante rimasto in vita. Ah, raga, non mi voglio muove. Non mi muovo, non mi... Non mi interessa. Un caglio ho fatto male, sì. Non mi muovo, non mi interessa. Hai capito? Perché loro passano da qua. Bam. Bella. Ma vorrei avere pure io questa mira. Allora, dato che stanno chiudendo... Tutti quanti passi. Tutte quante cose. Sarebbe... Da fare. Sicuramente qua. Sarebbe da fare qua. E, e, e... Sarebbe da fare qua. A me che me ne fotte. Non mi sembra male. Non mi sembra male. Certo, però... Se vede qua, io... Vediamo se... Vediamo se... Esce e me ne vado. Ok. Lui sta là, lui sta là. No, a me devo togliere, dai. Siamo troppi qua, no? Mi sembra che siamo leggermente troppi. E basta Non devo sovrapporre anche gli alleati Secondo me Ah ma non si può più Ah si Perché io comunque riesco a Bloccarli un po' Però tre stanno là Oh raga vi giuro anche se non faccio una kill Devo cominciare a capire dove come posso Non rompere i coglioni Questa è una cosa sicur Cioè è per forza così raga Eh stanno tutti Tutti là Tutti tutti là Io ho una domanda che mi faccio no Preparo il nido Ok Quello là Mi sta guardando molto molto male Le mie piccole tossine sono in posizione Vi giuro raga non li faccio passare Non me ne frega di niente Ok Ma non mi importa Ok Ok Occhio qui ragazzi Madonna Madonna Santissima ragazzi È veramente una strage Da che erano scarsi 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 Porco zio Ma dove ho pingato Ma non è vero Quello da sopra Da sopra Da sopra L'ultimo nemico rimasto Il collino di posizione Per di via nata La Tranquillo 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 Perimetro stabilito Difesa perimetrale attiva Ok dovrebbe stato a ste parti 15 secondi Ok 15 secondi Io sto andando nel bagno Perché son scemo Ok Non credo che ce la possa fare Pure se muoio non fa niente Oh c'ero C'ero Non fa niente Vi giuro va bene così 7 4 1 0 0 Una ghile la faremo Io non mi lamento E ci siamo Sto anche cercando di prendere Gli operatori diversi dal solito Bell'armavio Chiola Bella Cagliarda Ci sta Ci sta Sì sì Lo so che l'arma mia È un po' particolare Lo so Non mi interessa Non vi preoccupate Voi dite ma tu lo sapevi E che non lo sapevo io Lo sapevo così Fatemi vedere una cosa Ce l'abbiamo Utilizziamolo Perché qua È tutto aperto Giusto Giusto Qui posso fare Una carica Carica posizionata Dove l'hai messo Bastardo Ok Li stanno massacrando Ah cioè hanno Un gioco diverso Completamente dal mio Che non è che Mentre io faccio No Eh va bene Ok Ragazzi Hanno Non so Io Per gli attaccanti E mentre dietro di lui Si stava aprendo Un varco Cioè non è che Non ci Allora Non è che non sto Giocando bene È che sono molto Più lento del mio team Che in realtà Sono due che stanno Carriando in maniera Spropositata Questa partita Perché io con la mia Lentezza Comunque Piano 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 Cioè mi sto Avvicinando ai nemici Ma ci arrivo comunque In ritardo Oh Non è che succede niente Concussione A impatto Mettiamo due telefonini Mettiamo due telefonini Tanto qua C'ho tutto pronto Disponibili No Mi metto 2.5 No 2 Secondo me Che mamma Mi rinottico 2.5 3 Cioè praticamente Con questa Posso arrivare Fino alla luna Vabbè Vogliamo parlare Della skinna di Yana Bene Benissimo Bene 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 Quella perché Li vede Capito Nessun drone Disponibile Non fa niente Che partita Un po' Neanche le telecamere Mi fanno togliere Ve giuro È una cosa incredibile Ah Hai capito Hai capito O non hai capito Ok Lasciamo così va È pieno qua Ma pure questa C'è sto tipo di arma Ok Tanto muoio Quindi Ok Di me Credo di aver sentito Mortacci quanti Sta uno lì Uno là Uno su Uno giù Ok Non so se uno L'ho colpito Sapete Facciamo così Di nuovo Questa sempre Qua è rompimento È rompimento Dei cazzi Ok Che vi sembrerà poco Ma Per me è tipo tantissimo Ok Quindi Qua nessuno Quindi qua Ce n'è uno Ah Bene Come sai che gli altri Non li vedo Due due Qua dove scusatemi Sensibilità Maledetta Un pochino troppo lenta Ci sta Va bene Va bene Va bene Sensibilità Un pochino lenta Ho fatto una kill Almeno E ho fatto una kill Ho portato sfighe Abbiamo pure perso Madonna me Turno finale Meno male Ho guardato Che avevo rimesso pausa Mortacci Mia Forse montagne Potrebbe essere Effettivamente forte Io Seguo loro A cannone Anche se Dovrei stare avanti Io eh Però Magari lui sa più cose Di me E mi porta Alla Vittoria eterna Beh Comunque Mi sembra che I buci Di culo L'opponentino Ok Con calma Con calma Mirche Muoviamo con attenzione Ah bello Da qua ragazzi E qua ragazzi E qua Bello mio E qua Bello mio Non è vero mai Non è vero mai Non è vero mai Non l'ho mai preso Mai preso Ma come cazzo Spara montagne Ma come spara Montagne Scusatemi eh Con quale fisica Cioè Completamente Amminchia Quindi pure Colpa mia E vabbè D'altro Onde Aio Ok Non posso togliere No Lo sai che stavo a giocando anche bene Lo sai che stavo giocando anche bene Santo Dio Ah Stavo a giocando anche bene Senti mi è sposto un attimo Tanto sti cazzi Se me devi ammazzare Mamma sì Ok Così almeno io ho detto dove stava Che sfiga ragazzi No Ce l'avevi Vabbè comunque Raga Lui stava a sinistra Io ho sparato così Io capisco che Ma porco zio Non è che la pistola La pistola fa così Cioè non è che Po 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 Comunque sta cosa secondo me Sui giochi la dovrebbero sistemare Vedi qua la verità eh Cioè non è possibile Cioè Poi quando ti spara Al nemico Non spari mai Ah Madonna Santissima Ok Mi sto Leggermente incazzando Che minchia stava a fare Quello Ma con me stesso Mica con gli altri eh Per carità di Dio Cioè con me stesso Assolutamente Vabbè che quell'acqua Minchia Non l'ha mai preso E vabbè Fino a prova contraria Va bene tutto Eccoci Un minimo di mira Ce lo potresti pure Vabbè Parla io Parlo io Parlo io Ok Se li sta Fottendo Tutti E io mi sono Fottuto Lui Ok Ok Stiamo calmi Non credo potremmo Mai fare roba interessante Ma Ok Ci provo Ma non posso Madonna mia Eh ci sta Bravi 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 Ci sta Forse col senno di poi Eh Quanto sarebbe bello Fa pure io Delle kill così sceme Sarebbe bellissimo no Col senno di poi Forse lo devo coprire io Da là A proposito Vedi che il sceme no Ma chi gli è tirato Sì così lo rincoglionisci Ecco va Non ci credo In realtà dovrebbe Stare contro uno Se non erro Eh sì Stare contro uno Qua colpo Netshot Fortunato Certo C'è 31 HP La vedo un po' Grigiotta Eh La vedo un po' Grigiotta Tu dici Che sta là Eh infatti Ah no Sta contro Due Non è male Non è male questa A giocare Nooo Era pronto a tirargli giù le gambine Nooo Eh Ripeto Pure a me piacerebbe fare delle kill così Perché non capita mai Qui siamo eh Proviamo a vedere 10 secondi Se riusciamo a fare qualcosa di buono La vedo molto grigia eh Ripeto La vedo molto molto grigia io Magnet in posizione Voglio metterlo un attimo qua Madonna di dio Mirko Fai cagare Anche è vero che non me crepano eh Eh raga Io Sparo 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 Questo ci proteggerà Ok Ho visto eh Ragazzi Sono tutti qua Mannaggia Non riesco proprio A farle le kill Non riesco proprio A farle le kill Ah raga Ma io Ma che devo fare Capisco che non lo prendo Io lo capisco Che non lo prendo Ma non mi muoiono Eh Lui mi prende in testa Ma Vabbè Va bene Guardate Datemi una spiegazione Quella che sono una pippa Già la so Però Santo dio Devo fare due kill Ma vi giuro Non riesco a capire Non riesco a capire Oh proprio Non c'ho la mira Non c'ho minimamente La mira Raga Ma com'è È strano Molto strano Molto molto strano Perché ci stava anche Capito E sto turno L'avevamo vinto Perché Perché avevamo fatto due kill Tutto qua E invece no Raga Invece no Io devo far defegare Ma faccio davvero Defeare Raga Cioè Menomale che è bello Rainbow Six Perché veramente Se no dovrei lasciar perdere Oh raga Pure voi Giocherete a qualche gioco E dite No raga Meglio che non ci gioco E so veramente Una pippa Beh Non so che cosa Ne pensate Ma Ok Stanno comunque Provando a tenere E due persone Dovrebbero essere Decisamente Massacrate Cioè Decisamente Insomma Io mi dovrei Rivedere pure bene I miei video E vedere che cazzo Sbaglio Raga Eh decisamente Sì Perché se no Devo provare Stanno piazzando Stanno piazzando Io ve lo dico Ok Perfetto Vedete che uno Oh Va Più 75 Più 75 Più 250 Più 350 È normale Erano tutti one shot Più o meno Bello Bello così Bello così Raga Sfoggio Darmi arma segreta Di nuovo Dovete localizzare E disinnescare una bomba Sfoggio montagne Eh va fatto Ok Non sappiamo Ricarico l'arma Ma quindi non ho capito Ma sappiamo Allora voglio ricaricare Un attimo Questi due colpi E me ne vado qua A te Ragazzi Tua Allora Andiamo qua Non c'è nessuno No Però non è che se mi segui A me dispiace Uno di noi è morto Ok vado sotto Vado sotto Facciamo così Vado io Vado io Vado io Vado io Non hai più il disinnescatore Cazzo è successo Mannaggia Quella grandissima È giunta la tua ora Miserabile Ok 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 Perfetto Ok Devo essere un po' Rumpigazzi Eh Ok Ah Eh raga Un operatore alleato Ripace All'anima nostra Io quello che potevo fare L'ho fatto Penso No Lui è stato bravo Comunque Lui ci sta È stato bravo E vabbè Però almeno è stata Una partita sentita Minchia Si è stata sentita Io pensavo All'inizio erano scarsi Poi pensavo Che erano fortissimi Poi non so Che è successo contro Vabbè Che vedevo di Ah oh Almeno è stata sentita 27 minuti di video Sconfitta ingiusta Sono d'accordo Sono veramente D'accordo Con questa Con questa tua cosa Gioco Sconfitta ingiusta Io qua non ho giocato bene Dico la verità Non ho giocato bene Vabbè Signori Ci rifaremo Io ti dico di sì Vado a dare valore Valore Sti cavoli Eh Andiamo a far così Ah poi Hai capito come fanno Le persone Se tu li incomi Loro ti incominano a te Sì Ci può stare Ah ragazzi Vi voglio bene Al prossimo appuntamento Ciao Ciao